E' durato poco più di due ore l'incontro organizzato dal Comune di Pozzuoli, Regione Campania e Dipartimento della Protezione Civile per informare i cittadini sul fenomeno bradisismico in atto nell'area vulcanica dei Campi Flegrei. L'incontro si è svolto nella sede del Centro Operativo Comunale nella frazione di Monte Ruscello a Pozzuoli. L'iniziativa si inquadra nel piano di comunicazione elaborato dalla Regione, in accordo con il Dipartimento Nazionale nell'ambito del Decreto Legge 140 del 12 ottobre scorso e ha l'obiettivo di offrire alla popolazione informazioni aggiornate sulla crisi bradisismica in atto. Oltre al sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, padrone di casa, hanno partecipato all'iniziativa il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Antonio Di Vito. E proprio Curcio lancia da questa sede un messaggio chiaro. Basta le rassicurazioni ai cittadini. Noi abbiamo il ruolo di far conoscere con fermezza il territorio in cui vivono le persone. Il sistema deve metterti nelle condizioni di poter conoscere il rischio. Ai nostri microfoni il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e l'assessore alla sicurezza della Regione Campania Mario Morcone. Il tema della rassicurazione è un tema che come Protezione Civile continua a non comprendere. Qua non è una questione di riassicurare, rassicurare le persone. Qua è un tema di conoscere il rischio del quale territorio, questo come altri. Devo dire che c'è un clima di grande collaborazione e vogliamo fare tutto questo in trasparenza. Sotto la lente di ingrandimento c'è anche la situazione degli edifici privati, oltre 2.000 sopralloghi in queste ultime due settimane. Dopo questi sopralloghi esterni si passerà a quelle strutture che tra quelle analizzate hanno fatto emergere particolari criticità per gli interni. Sentiamo il commento del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. Naturalmente siamo al fianco della comunità e soprattutto cercheremo di mettere in campo e di continuare su quelle attività proprio per tranquillizzare quanto più possibile le comunità fregree.